Luca successo Buonasera. Ah, innanzitutto grazie di essere venuto, visto che non era scontato, che lei accettasse, l'invito a venire nella tana del lupo che poi siamo degli agnellini evidentemente, dirà lei, ma io ho il compito duro e divertente allo stesso tempo di provare a farla sentire un po' scomoda su questa sedia e che ovviamente l'abbiamo scelta apposta tra l'altro siamo in live streaming su repubblica.it che voi direte una figata, perché voi non siete qua al posto mio comunque non le chiedo nemmeno se è pronto, credo anzi che lei sia decisamente più pronto di me e quindi iniziamo con le domande il rapporto tra lei e i pubblicitari italiani è sempre stato quanto meno controverso, molto difficile e diciamo anche che lei non ha mai provato particolarmente a farsi amare da noi, anzi abbastanza sempre preso, le distanze allora incominciamo da qui, perché noi pubblicitari non le piacciamo? ma io penso che siete voi che avete questo problema prima di tutto avete questo complesso può essere di non piacermi forse vi domandate come mai non ho proprio vorrei prima di tutto chiarire qualcosa non sono un pubblicitario non appartengo alla vostra categoria che voi invece la vostra corporazione diciamo assolutamente non appartiene anzi fieramente non appartiene sì quindi qualcosa contro di noi ce l'ha insomma se fieramente non appartiene no, non ho niente contro di voi assolutamente siete voi che subito appena ho cominciato a utilizzare la fotografia come un momento di comunicazione nel mondo della pubblicità non nel modo convenzionale vi siete subito inalberati avete subito fatto dei problemi avete detto cosa c'entra a Toscani come mai fare queste robe non va bene farà fallire le aziende sono tutte opinioni vostre che avete detto voi io non vi ho mai cercato del resto devo dire che nessuna agenzia di pubblicità mi ha mai chiesto di fare un lavoro per loro strano beh non è vero adesso lo vedremo do fastidio do fastidio perché arrivo lì e i direttori creativi direttori creativi questa è una parola che mi affascina cioè il padre eterno creava da solo non dirigeva nessuno persino il padre eterno noi siamo dei direttori lavori non direttori creativi no ma perché avete bisogno no mi domando come mai voi avete bisogno di questa parola creatività quando in realtà siete della gente che lavora per il marketing siete stati ormai messi sotto dal management cioè la creatività non è la creatività non è la prima attività dell'agenzia di pubblicità la prima attività dell'agenzia di pubblicità è cercare di non perdere il budget no ma noi siamo d'accordo noi siamo dei pubblicitari creativi è un aggettivo non è una professione noi siamo ma è una grande presunzione però è pubblicitari ma è pubblicitari noi a casa di pubblicitari ma dimmi chi non è pubblicitario noi qui celebriamo celebriamo la creatività non i creativi o i direttori creativi ma mi faccia passare alla seconda domanda no ma scusa cosa vuol dire celebrare la creatività beh perché no dimmi cosa vuol dire fa schifo la settimana dalla creatività cosa è successo lei è venuto no ma è una domanda lei è venuto ha frequentato no ho frequentato niente abbiamo avuto tanti contenuti interessanti c'è un mio amico Mastro Matteo che mi vuol bene uno dei pochi uno dei pochi che mi vuol bene nel mondo della pubblicità che mi ha invitato sono venuto volontieri perché sono curioso vedere i direttori creativi è un'apparizione senta lei è un po' considerato non da noi ma da molti il guru del perché se ne parli il guru lo dite a voi no non lo diciamo io sono un fotografo ok lei non mi insulti tenga il guru fra i suoi colleghi quando lei ha lavorato lavora una campagna lei ragiona sulla marca sul prodotto sul brand o ragiona sul brand oliviero toscani ragione basta tutto scusi eh parliamo in modo civile io non sono un brand e neanche una marca lo è diventato sicuramente è diventato perché voi della pubblicità ragionate così sono un essere umano che cerca di fare il proprio lavoro nel modo più nel modo a cui penso dovrebbe essere fatto sono un testimone del mio tempo allora è molto difficile spiegare in questi termini a voi della pubblicità perché voi vi siete fermati veramente allora non dica che non ce l'ha con noi però perché no vi odio non è che ce l'ho ah allora torniamo perché ci odia per di più ma sì perché per di più venite mi sembrate come i napoletani adesso no che chiedono come mai a Napoli dite Napoli è sporco i napoletani sono i primi intelligenti sono i primi a capirlo no e allora voi continuate a domandarmi come mai la creatività voi delle agenzie pubblicità ma vi posso dire perché ricevo tutte le settimane delle mail di giovani che entrano nelle agenzie pubblicità con la grande speranza di essere creativi di entrare nel mondo della comunicazione diciamo pure anche solamente della pubblicità sperando di fare e mi mandano queste mail così di grande delusione che all'interno di tutto il vostro sistema la creatività non esiste più non esiste più e questo è gravissimo chi è responsabile chi è responsabile davanti a un brand come dice lei vi fermate al prodotto avete inquinato per anni dicendo che la Volkswagen era una macchina ecologica guardate quanto tempo avete buttato via a raccontare le balle al mondo perché non l'avete fatto se andiamo indietro negli anni io sono andato a spulciare un po' gli annual dell'Arda Retos Club che è uno dei co-organizzatori di questo non dovete guardare no no ma lei compare tutto il giorno siete lì a guardare quello che è stato fatto l'ho fatto solo per lei non si preoccupi guardate indietro con rabbia solo per lei in realtà ho scoperto ho ritrovato evidentemente se questo funziona delle le prime campagne che probabilmente adesso dobbiamo andare un po' indietro la Resero famosa che sono evidentemente Jesus Jeans e ovviamente i due soggetti di Jesus di questa campagna storica meravigliosa che è firmata come copywriter da Michele e da Emanuele Pirella e adesso vi racconto questa storia una volta per tutti no io la mia domanda è il suo il suo ruolo si considera il fotografo l'autore il co-autore qual è se ci può raccontare ma io sono un fotografo e devo dire che ormai la fotografia forse è diventata l'arte più facile in fondo come la scrittura la scrittura è un po' più difficile cioè tutti sanno scrivere e quando dici uno scrittore pensi a un autore quando pensi a un fotografo pensi che sia uno che maneggia le macchine di fotografia ma un tecnico in realtà non è così il fotografo è colui che sceglie dall'immagine del mondo un dettaglio sul quale forse migliorerebbe anche riflettere che può fare che può sorprendere quindi io sono un fotografo in questi termini allora vi racconto questa storia della Gisogine che qui sono tutti creativi d'Italia Maurizio d'Italia era un industriale di Torino che venne quando aveva 24 anni nel mio studio lavorava a Vogue Italia mi dice voglio farti l'assistente arrivò con una Ferrari 24 anni e gli domandai cosa fai sai noi abbiamo un'azienda che si chiama Robedicappa e gli dico era 65 e gli dico ma perché non produci Blue Jeans allora non c'erano veramente grandi aziende di Blue Jeans in Italia ah Piccio sai l'azienda in mano signor Lattes che non vuole assolutamente sentire parlare di queste cose comunque diventammo amici lui nel frattempo fece una linea di bikini che si chiamò Beatrix e la prima foto fu una mano bianca sul sedere abbronzato un po' sparita quella foto era molto bella mandammo una ragazza con un bel sedere in vacanza 15 giorni al club mediterranei col fidanzato con la mano sul culo adesso con photoshop ci fai in tre secondi ahimè ahimè vabbè comunque vi racconto questo divertente ci divertevamo Maurizio era geniale era un ragazzo sempre all'avanguardia infatti morì di ADS quando non si sapeva ancora cosa fosse l'ADS è così incredibile ci sono quelli che hanno questi succhi gastrici sviluppati nella vita e lui era uno di questo e io ho sempre avuto la fortuna di trovare questo genere di imprenditore questo genere di committente perché senza un committente intelligente non farai mai un buon lavoro vabbè comunque e continuavo a rompergli le scatte fai i blue jeans fai i blue jeans finché un giorno era 72 quindi sette anni dopo arrivano io lavoravo a New York in quel periodo arrivo stasera bene arriva dentro il mio studio mi dice Oliviero produrremo blue jeans bene andiamo a festeggiare scendiamo a piedi di Broadway io abitavo a Carnegie la 57esima e lui mi dice ma come li chiamiamo era di Torino e guarda così c'era Jesus Christ Superstar altro che Pirella Jesus Christ Superstar dico chiamiamolo con quel nome lì che bene o male è duemila anni che c'è la mena insomma giuro questa è la storia e poi arriverò sulla creatività e lui dice ma sei matto domande soltanto comunque questo è interessante perché ma sei matto no perché no beh insomma si chiamò Jesus allora io non conoscevo feci la foto quella lì la prima fu fatta il testo e poi non conoscevo agenzie di media e lui mi dice guarda che sotto di me in via Carducci c'è un'agenzia nuova di giovani socialisti che allora andava molto di moda potrebbero fare loro la distribuzione bene fu fatta la distribuzione dall'agenzia Italia che dopodiché divenne la creatrice della campagna Jesus va bene questa è la vera storia perché alla fine devo dirvi che la cosa più rivoluzionaria dell'agenzia Italia fu dopo la campagna Jesus o così o poi non ci fu niente se lo ricordiamo ancora adesso nient'altro di rivoluzionario va bene questa è la storia della Jesus quindi lei face la foto appunto appunto arrivamo giù arrivamo giù all'agenzia Italia signori all'agenzia Italia con la campagna fatta e l'agenzia Italia fu presentò padre eterno no Emanuele Pirella no 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 ma non è vero ma non è vero che tra l'altro non c'è più per cui è un po' voluto parlarne è strano così o pomì andiamo avanti dopodiché comunque ovviamente poi si arriva la campagna era pronta l'agenzia Italia con Emanuele Pirella presentò poi una campagna dove c'era un'Italia con una zip in mezzo col copy o preferite un'Italia indivisa molto politica la cosa dopodiché arriviamo a Benetton che evidentemente è una che esiste monumentale cioè un brand che in un periodo brevissimo crebbe a livello mondiale no è un'introduzione me la permette è un brand che ovviamente nacque da Benetton la cui marca in qualche modo il brand frame come si diceva oggi in America lo disegnò Bruno Sutter fece il logo e il concetto di United Colors of Benetton lei evidentemente ebbe enorme merito di aggiungere un linguaggio visivo freschissimo un tono di voce dissacrante provocatorio soprattutto è stata forse una delle primissime volte in cui ci si allontanava dalla rappresentazione pura del prodotto e si arrivava alla rappresentazione di marca quindi è una case history incredibile e si passa dagli angioletti ripeto campagne storiche tra l'altro premiate per quello che può valere ma che hanno fatto la storia della pubblicità italiana solo che si entra in una spirale provocatoria da cui poi diventa difficile probabilmente uscire è un gioco è un gioco un po' al rialzo in cui qual è il limite cioè c'è un limite c'è un c'è un'etica ce l'ha un'etica ma io lo domando a voi lo domando a voi se non siete entrati voi in una spirale dove veramente non fate più niente interessante perché io qualche anno che non vedo più niente interessante con tutta la gente che lavora e dice di essere creativo nelle agenzie ditemi un po' qualcosa di interessante quando fate qualcosa di interessante è qualcosa di un po' ironico che fa sorridere ma non portate niente a fondo al termine non portate niente in modo profondo quindi anche qui sta la storia di Bruno Suter Bruno Suter è un mio compagno di scuola prima di tutto studiato grafica a Zurigo e quando io cominciai a fare la campagna in quei termini lì l'agenzia del Donato fu liquidata perché non ci credeva parlava come lei non ci credeva a questo genere di pubblicità quindi non ci fu più dissi proprio a Benetton non voglio più agenzie fra le scatole e questo è successo allora vi dico c'è un grande problema c'è un grande problema voi col vostro problema il vostro complesso di creatività noi siamo invidiosi per essere liberi lo mettiamo siamo invidiosi per essere liberi quindi forse anche per essere creativi come dite voi anche se io non credo che uno deve cercare di essere creativo uno o lo è o non può cercare le idee uno che cerca le idee vuol dire che non ne ha uno fa quello che si sente di fare allora per ottenere questa possibilità di essere creativi diciamo così voi dovete arricchire il vostro committente dovete cercare di arricchire il committente arricchire il committente non vuol dire arricchire economicamente fargli guadagnare quanto di mercato va bene anche quello ma l'arricchimento è anche un fatto di cultura di potere di visibilità di tante cose allora quando il tuo committente avrà questa fiducia in te tu avrai la possibilità di esprimere delle cose e se questo potere glielo fai avere con delle cose alternative non con le ricerche di mercato però io l'ho fatto una domanda molto precisa sull'etica le cazzate che sono molto comode poi queste giustificazioni sai la ricerche di mercato ci ha detto di far bianco abbiamo fatto bianco abbiamo sbagliato la mia domanda era sull'etica però no no l'etica appunto io trovo che la faccio a voi questa domanda ma dov'è andata a finire la vostra etica avete in mano dei budget incredibili per parlare alla gente ma vendete le noccioline e basta quindi avere etica per lei significa crescere il potere e la marca del committente fare no fare una comunicazione che interessa la gente e non fare una comunicazione che non esiste ditemi un po' dove è andata a finire questa comunicazione ma come fate fare le riunioni in 25 brainstorming a parlare quale sarà il target delle noccioline ma non è possibile ma smettetela smettetela non si può di più è finito quel mondo lì è finito ma è finito a tanto tempo questa è la mia quinta domanda allora i limiti dell'etica in Missuri nel 2000 lei venne accusata di aver fotografato dei condannati a morte con l'inganno per motivi commerciali in seguito all'enorme scandalo che ne seguì il suo cliente Benetton non solo interruppe la collaborazione con lei ma dovete pagare anche molte salate e io mi sono informato pare chiudere addirittura 400 punti vendita ora lasciando perdere l'etica che c'è anche un porto alle palle che è interessante ma dopo un po' rompe le palle ma possiamo dire che almeno dal punto di vista pubblicitario e di marketing non fu una grande campagna ma un po' una grande cazzata beh queste cose qua se le dicono ve lo dite fra di voi fra mediocri per così per giustificare no però attenzione lei ha perso un cliente che ha chiuso 400 punti vendita no 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 questo qua le dici tu allora vorrei avere qua Luciano Benetton che racconta lui la storia proprio ultimamente a una serata a Cortina spiegò cosa è successo prima di tutto ho lavorato 18 anni in Benetton e tre anni prima di andare via disse a Luciano tre anni ci ho messo guarda che il giorno che si inaugurerà la fabbrica io andrò via perché la cosa sta diventando troppo grande in un certo modo e dall'altra parte il marchio sta diventando un po' piccolo per le cose che stiamo facendo eravamo d'accordo però gli ho detto prima di andare via voglio finire questa campagna sulla condannati a morte questa è la verità andate a domandare le vere fonti bene Benetton aveva solamente il 7% del business negli Stati Uniti quando io feci quella campagna soprattutto Luciano non voleva più essere là perché era relegato negli angoli di Sears Sears è un grande magazzino americano dove vendono anche i pneumatici quindi c'era i pneumatici qui e c'era la Benettoni là e lui non voleva assolutamente questa situazione però era successo così perché il marketing dell'azienda americana aveva deciso questo quindi faceste questa campagna per chiudere? no no noi facciamo questa campagna non ci sono non si ragione con i termini lì io non ho ragione con i termini lì fu fatta la campagna e ci fu sicuramente una reazione e già lei mi dice questa provocazione ma la provocazione è la base dell'arte se non provocate interesse che cosa state lì a fare a far cosa? provocare è una parola fantastica senza provocazione non ci sarebbe società civile non ci sarebbe cultura non ci sarebbe non ci sarebbe sviluppo né etico né mentale né niente allora voi non provocate più niente cercate tutto quello che non provoca niente allora fu fatta la campagna io andai via già già mentre usciva la campagna io già lavoravo alla Miramax ero già andato via dalla Benetton ecco questo dovrei scrivertelo se tu fossi più preciso ti farebbe anche comodo come direttore creativo fu ero già lavoravo alla Miramax con uno stipendio fantastico più di un direttore creativo questo è sicuro mi piace prenderti in giro adesso diventi la mia vittima sono qui apposta va bene e ci fu allora andai via in Benetton ci fu la solita ricerca di mercato fra l'altro fatta da voi dove in quel momento lì la Benetton oltre ad essere diventata in 18 anni 20 volte più grande a 20 volte più grande era diventata una dei 5 marchi al mondo più conosciuti e quindi questo quanto vale questo? perché non racconti questa roba qua no io ho fatto una premessa sulla che esiste di monumentale di Benetton allora hai già fatto questa roba in spirale allora caro mio non è facile non è facile questa è solamente semplicemente una conseguenza allora la creatività non è altro che la conseguenza di un'azione di un lavoro di un impegno di un sogno di una di una voglia che si realizza e quando voi lavorate con questi termini può darsi che voi facciate qualcosa di creativo comunque mentre la fate se siete sicuri potete essere sicuri che non sarà qualcosa di creativo se siete sicuri e quando voi fate i vostri lavori partite subito con i presupposti di una sicurezza ricerca di mercato e alla fine è la mediocrità la mediocrità che è prodotta la mediocrità quando tu farai qualcosa che accontenterà tutti non accontenterà tutti vuol dire non accontenterà veramente nessuno su questo siamo d'accordissimo e allora senta mentre proiettiamo una campagna per l'unità del 2008 riporto preso da Wikipedia per cui sai Wikipedia però ormai è diventata la vostra no sulla Treccani non l'ho trovata la sua citazione come si scrive Wikipedia dopo io lo faccio lo spegni non è difficile le donne devono essere più sobrie dare importanza all'essere più che al sembrare solo così si possono evitare altri casi di femminicidio il fotografo ha aggiunto che le donne non si devono truccare mettersi il rossetto devono volersi bene per quello che sono Toscani si è dichiarato d'accordo con il presidente della camera Laura Boldrini che ha chiesto lo stop all'uso del corpo femminile nella pubblicità io sono un po' confuso se mi spiega a te piacciono le fighe allora la produzione è figa tacchi alti pitturate seduzione scritto fuso no io lo dico proiettando un'immagine immagino questa è una roba di volgarità dimmi questa è la sua risposta no non so non penso assolutamente allora io devo provocare lei è provocatore io devo controprovocare perché se no che facciamo però non è divertente no ma non provochi tanto io pensavo qualcosa di più di più di più sostanzioso non è mica facile con lei dai mi dia l'onore delle armi però ad esempio parlando di provocazione come mai si arrabbiò tanto quando verso la fine degli anni 90 vide uscire questa campagna fatta per il manifesto da due pubblicitari che erano Alele Panzeri e Sandro Baldoni cioè la provocazione funziona se viene da lei e non si viene da altri perché l'unico punto dove voi vi sentite creativi quando fate qualcosa che fa sorridere il gag cioè i neri che vanno col Bob che è una delle migliori campagne che avete fatto ma alla fine è una cazzata scusate i problemi sono molto più interessanti sono incredibilmente interessanti non siete mai capaci di affrontare qualcosa di sé non di serio ma che sia veramente una condizione umana che faccia girare il sangue nelle vene non avete il coraggio di affrontare questo parlate così il compito della pubblicità è far gelare il sangue nelle vene si anche lo rifà che le viene bene no ma scusa eh no sono bravo a imitare sono bravo a imitare no ma scusa senta va bene di brutte no voglio fare la domanda numero 8 ma guarda a me piace seguire i numeri parli di creatività guardiamo la pittura nella pittura come? non siamo artisti no ma parlate di creatività art director art director art che art? non mi insulti allora smettetela copyright allora smettetela smettetela di virare smettetela siate onesti e non presuntuosi no no ma hai ragione smettetela senta siete dei venditori della comunicazione come lei ma in un modo banale come tutti senta parliamo abbiamo parlato di bellissime campagne controverse alcune controverse alcune meno bellissime però controversi allora sì adesso vorrei parlare di quelle brutte visto che credo che le abbiamo fatte un po' tutti no? io modestamente con una brutta l'ho fatta ce n'è una che vorrebbe non aver fatto ce la può citare? ma me lo ricordo beh una brutta che lei dice ma parca troia non avrei voluto non farla quella lì ma mi è capitato di mollare lì tutto andare via mollare lì i vostri committenti ma andarmene posso farle vedere? non mi ricordo te prego mi interessa sentiamo nel circo della strada puoi piangere e far piangere pensaci in un anno 3860 morti per incidenti stradali fondazione AN le assicurazioni per la sicurezza stradale ah ho capito perché non vi piace ho capito perché non vi piace perché questo era un concorso fatto da Lania e mi trovai il giorno del briefing io da solo e altre 4 o 5 agenzie forse c'eravate anche voi e le agenzie arrivano sempre in 4 o 5 come me fra i 4 e gli 8 ogni agenzia e arrivano sempre col direttore creativo direttore marketing poi un paio di scosciate fighe con i tacchi sono le mi hanno spiegato che sono le account non faccia l'ingenuo non faccia l'ingenuo vi racconta l'altro arrivano ste fighe e c'era il briefing tutti la e per 3 anni li ho fregati sempre infatti non me la fanno più fare perché è una bella entrata economicamente ogni anno vincevo io ma come mai come mai per quello che non vi piace forse c'eri anche tu no non c'ero avrei perso sicuramente avrei perso sicuramente comunque non mi dispiace quella campagna nel senso che la ritiene una bella campagna no è una campagna è stata molto efficace molto efficace ma non so mi hanno detto mi hanno detto lei dopo Benetton diciamo che non ha più no durante durante come dire ha toccato quelle vette c'è chi dice che lei è un po' un po' bollito queste sono un mash up delle sue ultime delle sue ultime campagne non me ne vergogno neanche di una no ma ci mancherebbe non le chiedo se se ne vergogna non le chiedo però se forse come dire forse siamo arrivati a un livello di provocazione ma manca quella dell'anoressia che non era male come mai c'è sì possiamo parlarne possiamo parlare la campagna di Nolita per l'anoressia mica male no beh mica male ha semplicemente replicato quello che ha fatto per Benetton 15 anni prima lei ha replicato io faccio quello che so fare io non è che devo replicare ma scusate ha sfruttato uno schema fantastico per un certo periodo quando ha cercato di uscirne no 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 queste campagne sono fatte io non lavoravo fisso per un cliente io non ho mai avuto un contratto fisso con nessuno non ho mai avuto uno stipendio però ammetterai che non sono le campagne dinamite che faceva una volta no ma chiaro Benetton aveva 100 milioni di budget tutti lo vedevano era più era più facile ma insomma campagna Nolita non era Benetton e allora no nel senso che è un peccato perché quelle vette e poi comunque non faccio tutto il giorno pubblicità io lavoro per i giornali faccio giornali di moda faccio redazionali faccio dei reportage giro il mondo sono solo io non sono come voi sono un uomo libero appunto sono solo e non ti voglio assolutamente sono solo avete capito? uno mi chiama e dice vediamo vediamo se si può solo avete capito prima c'è qualcuno adesso bisogna fare come le api alla fine non funzionerà così funzionerà così funzionerà così no 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 senta io volevo fare una domanda e la domanda era ma mi ha già risposto cioè la domanda era si considera di più un artista pubblicitario o un fotografo lei mi ha risposto molto chiaramente si considera un fotografo allora io ho la domanda da fotografo bravo cioè ma anche fotografo no 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 perché ormai chi non ha fatto una foto in vita sua no io per carità le faccio ma sono brutte è vero da fotografo cioè di fotografi provocatori iconoclasti sono pieni libri evidentemente no? però quello che la rende unica la resa unica è l'utilizzo pubblicitario delle foto cioè le sue foto svincolate da un titolo o da un logo evidentemente hanno un valore decisamente decisamente diverso cioè senza la pubblicità lei esisterebbe lo stesso come fotografo nella misura in cui esiste adesso non vuol dire che lei è ignorante non legge leggi giornali di moda per esempio ho fatto i primi numeri degli EL tutti i Vogue Italia Vogue Uomo ho fatto dei giornali ho fatto un giornale signora Colors mi interessa di editoria ho fatto dei programmi televisivi insomma no ma nella misura comunque dico va bene mettiamo ho capito io sono figlio di fotografo mio padre faceva il report alla Corriere della Sera va bene e nasco come report in realtà mia sorella che lei ha iniziato come report e poi è diventata la fotografa del design ballo non so se conoscete design dell'architettura di Still Life e io sono arrivato come terza insomma mia sorella aveva 12 anni più di me quindi quasi una generazione era un po' la terza di generazione della famiglia e faceva il fotografo e ho capito che per avere per avere un impatto con la fotografia essendo la fotografia un mezzo di comunicazione di mazza bisognava trovare un canale che non fosse quello del reportage perché se tu fai un reportage andrà solamente sul giornale dove per il quale lavori e finisce lì e ho capito che invece c'era una possibilità utilizzando la rete della pubblicità avevo la possibilità di avere la stessa fotografia pubblicata in tutti i giornali del mondo molto semplice questa è stata la mia quindi io ho utilizzato il sistema pubblicitario per fare quello che volevo fare per fare in un certo modo anche il reportage di una certa società di certe espressioni sociali perché ripeto invece del sorriso della Gioconda a me interessava da giovani il sorriso della Marilyn Monroe invece della musica lirica a me interessava rock and roll invece di tante cose che venivano prese come normalmente la cultura doveva essere a me interessava un'alternativa a questa cultura quindi ho capito che in ogni mondo in ogni settore in ogni specialità anche del tuo mestiere c'è la possibilità di entrare e fare qualcosa che sia sovversivo perché mi interessa la sovversione anzi mi interessa molto di più la sovversione ma non è vero non mi dica che ha fatto il pubblicitario per fare queste foto e dimmi una cosa sovversiva che ha fatto la Leo Bernet oh dio santo e allora siete lì in 40 la direttore artisti direttore creativi e dimmi qualcosa di interessante culturalmente della Leo Bernet la invitiamo alla premiazione di questa sera ci saranno un sacco di lavori molto belli e lei vedrà che delle cose sovversive però non mi ricordo però non mi sembrano le foto sovversive stai facendo vedere delle foto che hanno 20-30 anni ma non è vero che tutti ce le ricordano ancora ma che dice mi ricordate una campagna della Leo Bernet di 30 anni fa forse non c'era neanche tantissimo il fotografo morirò facendo il fotografo facendo il fotografo sto lavorando adesso ho appena fatto il numero di Natale di El il numero di Natale di El 54 pagine un lavoro non facile proprio anche come direttore artistico lo vedrai direttore creativo no direttore artistico no io posso farlo direttore artistico perché sono solo perché sono solo direttore di se stesso esatto esatto fino lì puoi anche imitare il padre eterno il creatore ma non dirigo non dirigo quindi faccio domani parto per Parigi lavorerò a Parigi per il francese sto facendo ma no c'è un sacco di lavori da fare sempre da solo sempre da solo no non è che sia da solo quindi dirige un reparto metto insieme una mia squadra pensata per il lavoro per il progetto che devo fare ho tutta una serie di collaboratori molto bravi dipende che lavoro devo fare che brinco anche io prima di fare il lavoro ci riuniamo se ne faccia una ragione è il contrario di voi vi posso garantire il contrario è l'opposto di voi mi spiace sono venuto un paio di anche noi facciamo queste cose qua brainstorming nell'agenzia di pubblicità una roba da piangere mi domando ma queste cose sono un disastro mi veniva da piangere i lacrimoni avevo poveri ragazzi pensa cosa devono fare sono finite le domande ce n'è una visto che siamo tra pubblicitari c'è qualche pubblicitario come dire che magari è rimasto perché noi alla fine siamo invidiosi cioè la verità è questa noi siamo un po' invidiosi perché non mi raccordo no no io lo dico io glielo confermo non mi raccordo io lo confermo perché lei finisce sulle copertine guadagna un sacco di soldi la gente si ricorda di lei e non ci caga nessuno evidentemente dobbiamo fare un'autocritica fatevi una domanda questo dobbiamo farla però allo stesso tempo ci sono dei pubblicitari che hanno avuto dei grandi meriti anche nelle sue campagne che sono passati un po' sotto la sua ombra no? a una ombra ingombrante no è la cosa più divertente è che questi pubblicitari c'è qualcuno che vuole ricordare questi pubblicitari qui un omaggio tardivo lo faccia sia buono questi pubblicitari qui vengono invitati a fare le conferenze di pubblicità in giro per il mondo non mi invita nessuno mi chiamano dico Oliviero non mi daresti le tue foto così le proietto alla mia conferenza di fare subito le mie piglia quelle della tua agenzia sai noi non abbiamo così tanta roba interessante allora vanno in giro con le mie lavori capito dopo che mi hanno bastonato da quando sono nato vanno in giro le mie lavori a far vedere la pubblicità italiana ma in realtà conosci e ho fatto vedere solamente roba italiana io ho lavorato in giro per il mondo c'è una campagna della Lee degli anni credo inizio anni 60 di Black and Blue is Beautiful ho fatto tante altre cose portato le più famose no 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 non sei ben informato e devo dire che questo forse è il grande problema vostro non siete informati è una cosa che mi ricordo che con Maurizio Vitali e io quando entrammo da Pirella nella sua agenzia l'Agenzia d'Italia gli fu detto proprio in modo chiaro dopo che ci aveva fatto vedere queste proposte o preferite l'Italia in divisa cioè militare ragazzi dovete girare il mondo non potete stare qui con la mochetta le segretarie nelle agenzie dovete girare guardare imparare il mondo succede fuori dovete imparare lì non potete rimanere chiusi nella mediocrità nella forma nei sistemi perché tutto ciò che si ferma la forma la composizione all'estetica è mediocre l'unico e vero scopo è interessare la condizione umana e no allora non potete non potete buttare via i budget la possibilità l'economicità i media che avete a disposizione per andare avanti a fare brum 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 questo mi sembra sacrosanto allora ripromettiamoci che noi cerchiamo di fare delle campagne migliori venga a vedere questa sera magari trova qualcosa che le piace però anche lei torni a fare qualcosa di un po' di più un po' più ambizioso voglio informarti sto facendo un bel lavoro sulla razza umana per esempio che vado avanti a dieci anni che non è ancora stato utilizzato e è lì pronto sto facendo delle ricerche che forse non ti interessano sono ricerche mie quindi compra il mio ultimo libro guarda di tutti vedrai che c'è una cosa contemporanea avevo iniziato a fare una campagna utilizzando gli immigrati e poi invece sono andato alla Leobernet a fare una campagna cianormale come l'avevo sempre fatta nel tempo passato purtroppo il marketing dice che gli immigrati non vanno toccati perché sono gli stracciaculi questo è il sistema della pubblicità va bene grazie mille prego possiamo stringerci la mano grazie a tutti grazie a tutti